E per la seconda volta la statuetta della Madonna di Lourdes è posta in una piccola grotta che si trova lungo il sentiero che dalla zona del Piazzale del Sole di Clusone arriva fino al Fontanino della Mamma è stata seriamente danneggiata da qualcuno che l'ha presa nuovamente a sassate. Nonostante sia stata riparata dopo l'ultimo gesto vandalico da alcune persone affezionate a questo luogo i gnoti hanno mandato in frantumi la testa della statuetta. Per la seconda volta esprimiamo tutto il nostro dissenso davanti a questo gesto sicuramente vigliacco per non dire altro.